stai stanco eh? eh mamma mia basca la miseria chi ti annanziarete? brava annanziarete a porti piatto non ce la faccio più ti bruciano i piedi i piedi ti bruciano il caffè una cosa fresca un te alla pesca se è possibile un te alla pesca un cameriere che non si fira grazie 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 ma come ti ha sentito annanzi i clienti ma cosa è pazza? annaccia la miseria sta stanco sta parte che non sto davanti ai clienti sto di spalla e comunque non ce la faccio più mi brucio i piedi andare avanti e indietro avanti e indietro stamattina come si può fare il talone di Achille di un cameriere sui propri piedi? e non male che sono i piedi devi mai tenere il gomito del tennista sì? e c'è il trombasca che sono Diokovic e poi a proposito di gomito pure questo qua mi fa male vedete? perché? e a portare i piatti pesanti avanti e indietro trombasca deformazione professionale come si dice tu devi mettere la sua letta in da scarpa a questo mio papà sta più rilassato, sta più comodo le ho messe, le ho messe ho comprato dal cinese al negozio qui di fronte ma non sono buono proprio 5 euro buttate è normale tu hai la sua letta a due cinese e la sua letta a due cinese sono solo, non sono buono solo non basta poi va bene a proposito di solo io non vorrei dire però ha già avuto solo pure questo mese da voi e che cosa? e i soldi che mi dovete ah i soldi? perché non mi iniziate a pagare ecco la vista rombascale che mi che mi paga mi farebbe riprendere eh? sì e la vista rombascale che mi era finalmente amassata sarebbe una poesia una poesia? ma tu pure a me mi ispirai la poesia tu mi fai diventare poeta a me ma per esempio vorrei non ti ascoltare guarda che mi è ispirata proprio la poesia siente siente come è bella siente la vena poetica immagino quando stai senza fare niente ti ha riposto ma non è urgente tu hai tenuto la creatività pensa a quello che puoi fare ti riposo ti rilassi io ti paga io ti paga il tempo passi se ti torni a tanto al piano tu hai trovato quello che ha fatto se sei stanco non ce la faccio io non dico te ne caccia ma se mi cerchi il sordo solo io posso mandare a fare 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 il suo finale carita tu sei intelligente vado a lavorare e manca questa volta mi ha voluto niente vuoi qualcosa? eh si ecco qua guarda quanto è bello che omaggio il ramoscello d'olivo che rappresenta l'olivo? la pace è sempre pace tu tu va fa fatica va ma ah 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 Ahem!